L'obiettivo, secondo il leader di SEL, deve essere chiaro sin dal primo momento, federare le esperienze alternative a Matteo Renzi e batterlo. Insomma, si tratta di una Leopolda tutta in rosso che faccia nascere un soggetto alternativo al Partito Democratico. Vendola è combattivo e pungente, non ci sta a passare come il solito benaltrista di sinistra che si ricostruisce all'ennesima ridotta di duri e puri per contestare il governo di Renzi, standosene all'opposizione. SEL, rivendica Vendola, non è morta e viva e grazie all'ostruzionismo dei suoi parlamentari si è guadagnata la centralità della scena politica, ma soprattutto dialoga con le forze sociali, con la CGL e la FIOM e il mondo del lavoro che rappresentano, con gli studenti, con le esperienze alternative extra italiane e con le minoranze dei democratici. Human Factor quindi sarà un evento nel quale si punta a raccogliere il malumore creato nel paese dalla svolta a destra di Renzi e quindi a offrire un approdo a chi nel PD oggi si sente a disagio. Human Factor, ha sottolineato il governatore pugliese, può essere una tappa per capire come mai la sinistra italiana si è addormentata socialdemocratica e si è risvegliata alfaniana o sacconiana. Vendola ha ben in testa due nomi, Landini e Prodi. Per il leader di SEL, infatti, il segretario della FIOM rappresenta una risorsa non solo per la sinistra, ma per la democrazia italiana. L'ex leader dell'Ulivo, invece, viene evocato da Vendola in modo alquanto sibillino. Se l'ex premier britannico Tony Blair va considerato un profeta del futuro, allora non si capisce perché Prodi debba essere trattato da protagonista della preistoria. Un paragone non casuale, soprattutto in prossimità del Toto Quirinale.